Musica Nel tempo ho visto il paese cambiare Ma una cosa è sempre rimasta la stessa L'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno Vestina Gas e Luce è nata qui Per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio Se prima forniva solo gas Ora si prende cura di tutti i servizi primari Luce, acqua e fotovoltaico Per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo Ogni volta che scegliamo una fornitura vestina Stiamo sostenendo il nostro territorio L'essenza di un territorio è nei volti delle persone Nelle azioni di ogni giorno Negli spazi che raccontano storie e esperienze E soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro Di chi sogna, progetta, inventa Per dare forza a tutto questo C'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese Le famiglie, i giovani Contribuendo alla crescita del territorio Presente in 62 comuni e 3 province Con oltre 5.000 soci È diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo Per raccolta diretta e impieghi BCC di Castiglione Messere Mondepianella Una banca differente che dà fiducia alle tue idee La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi Come Alter, prestorio e cardiaco ECG Autoanalisi del sangue e delle urine Noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita Oltre a numerosi sconti sui farmaci La nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino La nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino Parlare con i tuoi amici Sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione Il tuo lavoro Rispondere con sicurezza ai loro dubbi Tutto questo è più vicino di quanto pensi Perché i professionisti dell'udito maico Sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice E tu cosa aspetti? Antonio Di Teodoro Abbiamo parlato con il sindaco, siamo costituiti appunto in associazione cantiere e cucine E abbiamo chiesto semplicemente di darci la possibilità di rimettere a valore Le cose che il paese tiene Quindi il territorio che è la memoria, che lo sostiene E noi ci auguriamo che sia anche motore per scelte successive Abbiamo fatto una prima serata l'8 luglio in concomitanza con la mostra di Michael Kenna Abbiamo chiamato amici da Pescara e da fuori che sono saliti E per l'occasione abbiamo riaperto l'olioteca L'abbiamo pulita e abbiamo organizzato una serata, quel posto molto bello Tra le persone c'era Lucio Rosato E nel pomeriggio abbiamo visto questa chiesa Intorno alle 18, 18 e 30 Entrava una luce, come sta entrando adesso, meravigliosa E Lucio mi ha chiesto Come dire, vorrei fare qualcosa qui dentro Lucio Rosato è una galleria d'arte contemporanea a Pescara Che si chiama Uso Magazzino Che produce parecchie giornate di arte Ci siamo messi, come dire, a progettare questo evento E oggi siamo qui, come dire, a condividere questa giornata di arte e spiritualità Voi come cantiere e cucine che cosa intendete fare con la chiesa di San Francesco, al plurale Capotino? Ma la chiesa di San Francesco per noi è un monumento, come dire, che deve essere messo a valore Rispettandone la vocazione, ovviamente Non è un luogo, come dire, che si presta o si presterà a iniziative di basso profilo È un luogo meraviglioso, ma la meraviglia di questo luogo deve crescere nel rispetto e nell'ascolto del luogo stesso A noi ci interessa soprattutto costruire un percorso virtuoso Che nel tempo ricostruisca una connettività sociale e culturale per questo paese Lucio Rosato, oggi è il giorno di San Francesco all'Oreta Brutino L'installazione del tappeto del silenzio, proprio nella chiesa Dedicata al santo, chiusa dal sisma dell'Aquila 2009 Sì, sono felice chiaramente di essere qui proprio in questo giorno Perché il mio lavoro negli ultimi anni si ispira alle parole chiave di Francesco Che sono la rinuncia, che sono il perdono e soprattutto l'amore E quindi questo tappeto del silenzio vuole essere un modo per invitare all'ascolto E quindi a rinunciare, a urlare, a dire e a segnare Come ognuno nel proprio ambito ormai è abituato a fare nel tempo di oggi Anche io come architetto, no? E ognuno ha sempre il desiderio di in qualche modo esaltare il proprio lavoro E quindi di avere l'occasione per dire, per fare Ma invece bisognerebbe interrogarsi sulla necessità del fare Ci sono delle cose che forse oggi non bisognerebbe più fare E l'architetto dovrebbe lavorare alla costruzione del vuoto Questo avvicinamento tra arte e spiritualità? Penso che sia una cosa che esiste proprio in quella che chiamiamo arte E che è imprescindibile Io sono agnostico, quindi anche il mio avvicinamento a quella che è la storia di Francesco È un avvicinamento alla storia di un uomo, non certo di un santo Però di un uomo che è stato capace di fare delle cose grandiose Che io apprezzo proprio perché sono state fatte da un uomo e non da un santo Cosa si compone la sua installazione? La mia installazione è semplicemente composta da 7.068 fogli a 4 Che in 4 giorni abbiamo poggiato sul pavimento della chiesa Sovrapponendone uno all'altro A tessere effettivamente questo tappeto bianco Che misura 20 metri per 6 e occupa tutta la navata della chiesa di San Francesco A tessere effettivamente la chiesa di San Francesco In un mondo dove la tecnologia avanza Possiamo dire che c'è ancora qualcuno che si diletta a fare la trebbiatura come una volta Noi ci proviamo a mantenere queste tradizioni Con questi amici che ci danno a mano perché si collaborano Cerchiamo di fare quello che si può Fa vedere un po' a questi giovani quello che si può fare Come era una volta il lavoro che era talmente duro Lavorare nei campi E' così Questo è il lavoro di una volta Sicuramente non è facile Comunque non è possibile ancora fare tutto come una volta Però ci si prova? Si sta insieme? Noi cerchiamo di fare questo lavoro che fa vedere a questi ragazzi Tutto come era fatto il mondo prima I lavori Non è che si può fare questi lavori qua Ormai è passato Manteniamo queste cose Quello che si può fare lo facciamo Con questi amici ci divertiamo un po' più che altre Quanta fatica c'è però? C'è tanta fatica Si vede che c'è tanta fatica C'è da preparare le muc Preparare la macchina Perché macchine che ormai non si trovano più Mantenere di nord Per fare questo lavoro Però c'è orgoglio alla fine Tanto orgoglio e tanta passione Solo con tanta passione si può fare queste cose Grazie Gaetano è un molto noto Anche della festa di San Zopito E da dieci anni è qui In compagnia di Ottavio Per svolgere questa ammietitura Come le antiche tradizioni di una volta E come diciamo Come braccio destro di Ottavio Che abbiamo cominciato insieme Piano piano facendo delle cose Che dire Facciamo l'ammietitura? Si Lui risponde subito Facciamo Non so L'altro Il trasporto del grano Sul carro Si E lui Risponde sempre Che mi accorde Andiamo sempre d'accordo insieme Da allora sarà Penso Una decina d'anni E facciamo tutto questo Però è bello Stare insieme a tutti quanti Conoscere la ammietitura La treppiatura E il resto Io purtroppo ho fatto La ammietitura Con la falce A mano Sulle mie Cianterreni E piano piano So che vuol dire La fatica Dopo arrivare a questo E ancora più Dobbiamo La ammietitrebbia Che fa tutto da solo Però Ricordare Per i bambini Soprattutto Che sa Cos'è La ammietitura E il resto E quando ci saranno le forze Continuerete a farlo Sicuramente Sicuramente La ammietitura La ammietitura E' llamo La ammietitura La ammietitura Il culto dei Santi, protettore dei paesi, è negli ultimi anni una delle poche, se non l'unica cosa, che mantiene vive i piccoli borghi, soprattutto quelli ridosso delle montagne lontani dal trambuso dei giorni d'oggi, dove ormai il tempo sempre a essersi fermato Un esempio arriva da Farindola, paesino di 1694 abitanti, alle pendici del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga il quale festeggia il proprio protettore il 6 dicembre, giorno in cui la chiesa ricorda San Nicola Vescovo San Nicola fu uno dei più illustri santi che fiorirono nella chiesa orientale del secolo IV Nativo di Pataroa nella Licia, dimostrò fin da bambino di essere predestinato a grandi cose Prestissimo si innamorò della vita religiosa e si ritirò a un monastero nelle vicinanze di Mira La sua grande devozione lo spinse a visitare anche la Terra Santa Durante il viaggio, quando la nave su cui era montato si trovava in alto mare si scatenò una tempesta tale che i marinai disperavano dalla salvezza Ma Nicola, rassicuratili, si mise in ginocchio ed il mare divenne calmo e si arrivò facilmente in porto Ritorno dal pellegrinaggio, trovò vacante la sede episcopale di Mira, capitale della Licia Nicola, già celebre per i suoi miracoli e per la sua vita esemplare, fu eletto ad occupare quella sede e la reste sapientemente per molti anni Fu grande benefattore dei poveri, padre degli orfani e sostegno delle vedove Il suo corpo si conserva a Bari, nella basilica del suo nome Affarindola, la chiesa madre di San Nicola fu ricostruita negli anni 20 su un precedente edificio datato 1080 presenta un portale in pietra lavorata e al suo interno una navata unica, semplice e regolare dove è possibile ammirare una statua a linea di Sant'Antonio Ad organizzare i riti religiosi e civili di quest'anno il comitato festa di San Nicola Vescovo guidati dal parroco del paese Don Luca di Domizio che raccoglie tante adesioni in paese, unitamente al comune di Farindola, la Proloco e all'associazione Vivi Farindola Momento toccante e significativo venerdì 6 dicembre, quando è stata celebrata la solenne messa preseduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti dedicata alle 29 vittime della tragedia di Rigopiano in cui erano presenti alcuni familiari, tra cui quella Colangeli e Gian Caterino di Farindola Nell'intervista, le parole di Nicola Colangeli, uno degli artefici di questa manifestazione Io ho 19 anni che ho organizzato questa festa Poi dopo la tragedia ci siamo fermati Abbiamo fatto dopo un anno solo la cosa religiosa Oggi con il nuovo prete qua, con Don Luca che mi ha invogliato tanto mi volevo pure dimettere dal comitato mi ha invogliato a rifarla questa festa perché la vita va avanti e lo faccio pure per mia figlia che lei ci teneva tanto questa festa e Roberto pure ci sponsorizzava ogni anno Io nell'occasione voglio ringraziare tutti i sponsor tutti coloro che hanno collaborato per questa bella manifestazione perché noi con Ricavato lo diamo in beneficenza abbiamo fatto parecchie opere qua la chiesa che la chiesa è un po' disagiata per le opere da fare abbiamo rimesso a posto l'orologio tante cose e con Ricavato che ci facciamo questa festa lo doniamo a qualcuno L'anno scorso abbiamo per il Giardino della Memoria abbiamo dato 2450 euro è una cosa oggi sono dispiaciuto che non ho visto un familiare delle vittime qua io credevo che qualcuno veniva non è venuto nessuno purtroppo può darsi impegni di lavoro è compagnia bella e devo dire Andare avanti soprattutto per tenere unita la comunità di Farindola che ha bisogno di ripartire l'abbiamo detto sempre in questi anni e anche queste occasioni queste feste servono per tenere unito un paese sì serve d'accordo però io vedo che siamo abbandonati perché dobbiamo montare il Giardino della Memoria e non si sblocca niente se torniamo su a Ricopiano come era tre anni fa quando è successa la disgrazia oggi è peggio di quel giorno può darsi che non c'è un politico che si mette avanti non sappiamo più a chi chiedere io specialmente che vivo qua per me è un problema che io vado tutti i giorni su e vedo quella cosa un'indecenza non ci hanno acceso una lampadina il recinto la rete metallica è 43 anni che sta buttata là il vento ha rotto tutto e nessuno se ne frega di niente ci vanno i cinghiali là dentro ora ci vanno di tutto io non ho più parole da dire perché sono scoraggiato a vivere qua è scoraggiato e nessuno se ne frega di niente a vivere qua Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.